E riegoci qui con un nuovo video ragazzi, io sono Cri e oggi siamo tornati su EFootball2025 per andare a continuare la nostra scalata in divisione Tempo permettendo, spero di riuscire ad arrivare in divisione 1, dipende tutto da quante partite riesco a fare Vi ricordo che gli abbonati, oltre ai video riservati e alle anteprime, alle build personalizzate, hanno accesso ai sondaggi riservati Dove scegliete voi cosa devo provare, come quest'oggi Perché? Perché andremo a prendere in considerazione Ronaldinho Gaucho che avete scelto voi, o meno gli abbonati C'erano 4 opzioni nel sondaggio, lui è stato il più votato Volete vedermi riprovarlo perché l'ho sempre denigrato, effettivamente è vero Poi il regista creativo già non corre a poca velocità, accelerazione buona, gli ho fatto una build abbastanza completa E così effettivamente devo dire che sembrerebbe far paura Poi in campo vedremo come rende Andiamo così, Vinicius lo teniamo lì perché voglio riprovarlo E basta così Rischioso quello che sto facendo, andare a provare un'epica di due anni fa Che non mi è mai piaciuta Nel momento in cui sto scalando e incontro gente perlomeno forte Piccola parentesi, non mi interrompo più Poi 146 i giocatori rimasti nel pacchetto Vi faccio vedere perché giustamente quando l'ho trovato, l'ho scurato e non ve l'ho fatto vedere Sono 146 i giocatori rimasti nel pacchetto Ve lo mostro perché c'è chi non si fida Non si fida, mi ha detto no, tu hai fatto più di 4 singole Però hai tagliato il video così da poter fare il clickbait Invece no, sono 146 i giocatori rimasti Su 150, tutto qui Primo avversario di quest'oggi Top 1000 direttamente Con 3210 di forza complessiva Ho paura Concedetemi un po' di paura, oltretutto turco Quindi ancora di più A frecce Ronaldo è tutto su Messi, i due got sono tutti su E va bene così Va bene un pelo giù, va bene Cioè per provare sto digno sto tenendo in panchina Baggio Bergkamp e Totti Cioè non so Non so se è chiaro ragazzi Sappiamo già che non c'è nessun minimo paragone tra questi Lo sappiamo Però perlomeno che faccia qualcosa Perché in questo momento mi serve Cioè il terquartista mi serve Io lo sfrutto veramente veramente tanto Squadra dell'avversario Affrontiamolo Inizia la prima partita di quest'oggi Dura Già dura È già dura Se vuole Se vuole iniziare Ok ci siamo Dagli alla digno Allora digno qui si gira Ha anche dei buoni passaggi Quindi eccolo qui Madonna Quello era fallo innanzitutto Quello era fallo innanzitutto Era Si era infilato in mezzo a due ragazzi Su questo non Su questo davvero non ho nulla da dire a A digno Si era infilato in mezzo a due Era calcio di punizione Però non ha fischiato nulla Si è infilato Ci prova No digno Che tiro è Qui palla sulla fascia Messi Messi che si ritrova davanti l'avversario Ma Guardalo Guarda Ronaldo Ronaldo che ha un po' di spazio Si gira La riesce a dare in mezzo L'anticipo di digno Ronaldinho Attenzione Fa l'uno a zero Al ventunesimo C'è tra tutti eh Tra tutti c'è arrivato lui Ci ha messo lo zampino Inaspettato ragazzi Inaspettato Attenzione perché c'è ancora lui Ancora digno Ci prova la palla Rimane lì Due a zero Non sbaglia Belli gol A porta libera Raddoppio Raddoppio Che non mi aspettavo ragazzi Non mi aspettavo Guardando la sua squadra Guardando la classifica Non me lo sarei mai aspettato Dagliela avanti Bravo C'è digno Digno Passaggio perfetto per Ronaldo Che la stoppa Ronaldo Che cazzo Ha salvato Tira Bravo digno Oddio falciato però eh E vabbè Quello era Quello era fallo Quello era fallo Perlomeno calcio d'angolo Cosa ha fatto digno Oddio Ma questo è pazzo Questo sarebbe rosso diretto Non gli dà neanche il giallo Perché è un gioco di merda Ma sarebbe rosso diretto Clamoroso eh Clamoroso Attenzione perché c'è digno Avanti per Vinicius Che passaggio gli ha messo Ronald Digno Vinicius fa il suo primo gol Forse in divisione Con noi E poi si mette a ballare Jude Bellingham Porta su palla Bellingham Passaggio in mezzo per Digno Digno che cosa fa? Digno si gira Si accentra Ronald Digno Beh sta facendo un partitone Ragazzi eh Sta facendo un partitone Non me lo sarei aspettato Nemmeno questo Tutto Tutto molto unexpected Oggi Eh vabbè Quando scatta Messi Chi lo prende più? Chi lo prende più? Qui Di testa Che cazzo Ha sbagliato Vinicius Madonna mia L'ha tenuta Digno poi Chiesa Non sbaglia 4 a 0 Al settantottesimo 4 scopole Un top 1000 Partitone Del gaucho Finisce così ragazzi 4 papocchie E a casa 4 a 0 Digno Digno migliore in campo Esulta Cioè un tiro in porta Solo dell'avversario Ah no a 0 Non conta l'ultimo 0 tiri in porta Dall'avversario Ha preso 18 tiri totali 14 in porta Signori Top 1000 7 e mezzo Stellina Ronaldinho gaucho 45 punti Buonissimi Ce li portiamo a casa Sono molto Gustosi Andiamo con la seconda partita Di quest'oggi Secondo avversario Divisione 3 Quindi attenzione A non perdere Perché perderemo Tanti tanti punti A frecce Inamichevole Siamo letteralmente Inamichevole Su ovviamente Ci sono Zaccaria Baggio che non posso provare Perché stiamo provando Digno E giustamente Totti Li mettiamo di fianco Proprio a dimostrazione Che quando devi provare Un cazzo di giocatore Tutti quelli di quel ruolo Sono su Andiamo così Questa è la squadra Del nostro avversario Affrontiamolo Inizia la seconda Partita di quest'oggi Si chiama Pay to win L'avversario Annichilito Non c'è stata storia Ma lui giustamente Si chiama Pay to win Perché non è che perde Perché è scarso Perde perché Io ho la full epic Attenzione qui Recupero di Digno Passaggio avanti Per Messi Messi porta su palla Lionel Messi Ha tutto lo spazio Si accentra Messi Fallo Fallo Ma c'è Digno C'è Digno Che si accentra Prova il tiro Non ci posso credere Signori Ronaldo Sponda Scatta Digno Ma c'è anche Vinicius Vinicius che Vuole rifarsi Dall'ultimo video La tiene col fisico Bravo Vinicius C'è l'1-2 Tra Ronaldo e Messi Messi si accentra Messi la stoppa Prova il tiro Messi 1-0 Il ventunesimo Che minchia di azione Ed è partita tutta da Vinicius E quando bisogna ammetterlo Bisogna ammetterlo È partita tutta da lui Che la tenuta anche di fisico Non si sa come Porta su palla Vinicius Non c'è nessuno a cui darla però Cosa cazzo ha fatto Ma che cosa cazzo hanno fatto Sti brasiliani Cosa hanno fatto Cosa hanno fatto Come si è girato Vinicius Come gliel'ha data A Digno Che l'ha tenuto col fisico Si è girato anche lui E l'ha piazzata da una posizione Quasi impossibile 2-0 Il gaucho Oddio Oddio vera Messi E chi lo prende più? E chi lo prende più? 3-0 Al quarantesimo Signori Non c'è storia Sono superiori Sotto ogni Punto di vista E il gaucho Ha fatto due partitoni Cioè questo è ancora Neanche a metà Ma Signori Che giocatore O l'hanno ribaffato O giocavo io in un altro modo Può anche essere ragazzi Ho cambiato stile di gioco Vabbè Ho fatto la cappella Ci sta E vabbè Sul 3-1 Mentre parlo Ci può stare Dicevo Ho cambiato stile di gioco Tante volte Non nel senso Contrattacco Contropiede Possesso palla Sono sempre rimasto Contrattacco Ma il mio modo di giocare Quello è cambiato molte volte Ronaldo Sponda Digno di prima Ma per Vinicius Che passaggio Gli ha messo Vinicius Non sbaglia E anche lui Si sta riprendendo ragazzi 4-1 Partita forse chiusa Penso che questo Lo avremmo battuto Anche con una squadra Free to play Madonna Cosa ha fatto Vinicius Signori Cosa ha fatto Vinicius Poi Ronaldo Che fa Non sbaglia mica Non sbaglia mica CR7 Un'occasione Ha avuto La sfruttata 5-1 Qui ancora Digno Ancora di prima Ancora un'altra azione Clamorosa Ancora Ronaldo Non c'è Non ci sta capendo Veramente una sega Di niente ragazzi C'è che azione Ho tirato fuori Cosa sta succedendo 6-1 6 sono tante Cioè Piuttosto qui Ti fai più bella figura No Qui la ridiamo Ancora avanti In mezzo C'è Digno Che la stoppa Ancora Digno Ancora lui Ancora il gaucho Non si ferma Più 7-1 Guarda che passaggio Mamma mia Mamma mia Signori Mamma mia Signo Vabbè Su 7-1 Ci può stare Anche un errore Dai Ronaldo Non ti preoccupare Guardalo Che si è inserito Guarda Digno Guarda Digno Che si gira Guarda Digno Che si accentra Guarda Digno Un gioco Da ragazzi 8-1 All'ottantottesimo Ancora esulta Ancora fa Siii L'avversario Non ha più le forze Neanche di schippare L'esultanza Annichilito Non c'è stata storia Ma lui giustamente Si chiama Pay2Win Perché non è che perde Perché è scarso Perde perché Io ho la full epic Non gliela levi Non gliela levi ragazzi Non gliela puoi levare dai piedi È una cosa veramente assurda Come la tiene, come si gira Non riesci O lo butti giù E poi succede questo Perché qui si è girato Calcione sulle caviglie Calcio di rigore Qui andiamo con Digno Non ha senso andare con Ronaldo Andiamo direttamente con Digno Siamo sull'8-1 Quindi proviamo a fare la cappellata Proviamo a fare lo scavettino Male che ci vada È comunque finito 8-1 Va bene, va bene così signori Va bene così Sono contento lo stesso Ha fatto due partitoni clamorosi Ha fatto due partitoni clamorosi Che non aveva mai fatto Neanche quando era appena uscito C'è una cosa assurda questa Perché sono passati due anni E la carta forse è più forte di prima Vabbè qui Ronaldinho ha preso 7 Ronaldo ha preso 9 Cioè fuori da ogni logica 9 non so se l'ho mai visto su sto gioco Ma vabbè Da CR7 ormai ci si aspetta Ci si aspetta di tutto 1688 punti 25 guadagnati Ci portiamo a casa Due vittorie clamorose E Digno Digno ragazzi L'ho rivalutato Dopo tanto Tanto tempo Io ho rivalutato Questo giocatore Perché Forse lo giocavo Addirittura SP Di fianco alla punta Ed effettivamente Non correndo Non ha molto senso L'ho usato in un altro modo L'ho usato con L'offensivo Dando passaggi Girandomi Non tenendola di fisico Non provando il tiro da fuori Perché ha 83 di potenza tiro Non è tanto E quindi secondo me Questo è l'utilizzo Che bisogna farne Questo è indubbiamente Il Digno più scarso del gioco Questo è indubbiamente Il Digno più scarso Perché quelli del Barcellona Corrono di più Ci sono altri stili Questo è quello che A statistiche È sicuramente Il più scarso Anche a body tap Anche alla resistenza 77 inguardabile Forma normale È il Digno di fine carriera Quando ero al Milan Questo sicuramente Ma sono riuscito finalmente Ad utilizzarlo E a trovarmici bene Quindi sono contento ragazzi Grazie di avermelo fatto riprovare Arriveranno altri sondaggi Sempre per gli abbonati In cui In cui mi dovete far scegliere Che cosa provare Nei prossimi video Stavolta avete scelto bene Quindi spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale Seguitemi su tutti i social Li trovate in descrizione Come trovate in descrizione Il link al canale E il gruppo Telegram E come trovate in descrizione Gli abbonamenti Dateci un'occhietta Perché sono molto molto vantaggiosi Quindi niente Ciao a tutti